Il rotocalco radiofonico di AKR e Mondo Radio Web, a cura di Piero Cirino. Grazie a tutti. Stamattina è qui con noi la professoressa Maria Brunetti, dirigente scolastico dell'Istituto Classico e Scientifico Vincenzo Giulia di Acri. Intanto professoressa, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei per avermi invitato. Mi sentivo anche emozionata, sono emozionata. È la mia prima esperienza in radio. Non ce n'è motivo. E spero di rappresentare al meglio la scuola che rappresento. Partiamo subito dalla data di apertura perché so che a liceo c'è qualche difficoltà e qualche punto interrogativo. Allora, sì, io innanzitutto vorrei ringraziare la stampa per avermi dato l'occasione di esprimere un po' il mio avvilimento in questi giorni per un po' di immobilismo che contraddistingueva l'ente locale proprietario dei miei immobili. Adesso finalmente si è smosso qualcosa, però ecco, i lavori sono iniziati ieri, quindi adesso dovrò fare effettivamente un paio di calcoli per vedere se effettivamente il 24, perché ancora insomma i lavori sono in divenire, le classi devono essere, queste tre classi che mi hanno concesso e devono essere sistemate e adeguate a tutte le misure di sicurezza, anche il corridoio, l'ingresso secondario, quindi c'è un po' di lavoro da fare e quindi è da rivedere, nel caso è da ripensare un inizio per tutte le classi. Mi sa che a questo punto dovremmo scegliere, ecco, di iniziare in maniera soft e suddividere il primo giorno di scuola fino a lunedì, insomma, finché non avremo predisposto tutto. Purtroppo questo ritardo non è di peso da me, anzi io, diciamo, ho aspettato il più possibile, ecco, prima di lamentarmi, però poi insomma l'ho dovuto fare e adesso pare che si sia smossa qualcosa, anche se diciamo un'intenzione c'era già da parte della provincia, però ecco, bisogna anche che le parole vengano trasformate. Ne parliamo da un attimo, professoressa, quindi se ho ben capito c'è la possibilità che l'apertura possa slittare di qualche giorno rispetto alla data del 24? Più che altro stavo pensando ad un inizio graduale per le classi. Comunque dal 24? Dal 24, sì, ecco, non credo di farcele, ecco, poi devo provvedere in una riunione operativa, fare dei calcoli, però secondo me per il 24 mattina quel corridoio non sarà a posto, quindi non tutte le classi possono essere accolte, quindi penso che inizieremo suddividendo, non so se per, diciamo, segmento o altro, però insomma qualcosa faremo. E sto aspettando anche a mandare la circolare per l'avvio delle elezioni, proprio perché ancora sussisteva questa sorta di limbo, no? Su queste famose aule che avrebbero dovuto concedermi, corridoio e ingresso, perché è tutto indispensabile. Ecco perché ancora non ho avvisato con l'orario delle elezioni, purtroppo siamo ancora, è tutto in divenire, purtroppo a soli sei giorni della scuola. Lei ha fatto riferimento alla polemica dei giorni scorsi in riferimento a delle aule occupate da materiale del geometra. Ricordiamo intanto che l'edificio ospita il geometra pure. Sì, ecco sì, diciamo che con amarezza mi sono decisa a smuovere l'opinione pubblica, perché i cittadini di Acre devono sapere che non siamo stati con le mani in mano in tutti questi mesi, abbiamo provato di tutto per riuscire a riottenere degli spazi fondamentali. Ma come è nata questa questione? È venuta fuori dalla mappatura del fabbisogno della scuola. Ci siamo resi conto non solo che avevamo bisogno di spazi per la didattica, ma anche di veri e propri spazi per il movimento degli alunni, anche per l'ingresso e per l'uscita. Perché non è possibile che 400 alunni su una scuola che si sviluppa tipo un imbuto, che va in senso longitudinale, debbano entrare ed uscire tutti dalla stessa, dalla stesso posto. Quindi occorreva un'entrata e un'uscita laterale, occorreva anche uno sfogo, diciamo per le ricreazioni che saranno due, questo lo anticipa i genitori. E non è possibile utilizzare le scale di sicurezza, le scale di emergenza, perché quelle si chiamano scale di emergenza perché vengono utilizzate solo all'occorrenza, sono di ferro, sono scivolose se piove. Quindi imbastire un piano di sicurezza sulle scale di emergenza, come per le entrate scaglionate, era assurdo. Abbiamo bisogno effettivamente di spazi di movimento proprio per la sicurezza, perché la priorità adesso è garantire la sicurezza in questo periodo emergenziale. Questa è la priorità. Poi che ci siano laboratori, che ci siano, a me non interessa, io devo pensare alla sicurezza dei miei alunni e questo è quanto. Come mai due ricreazioni? Ecco, per consentire, poiché poverini gli alunni saranno un po' sacrificati nei movimenti, perché ovviamente è nelle situazioni di movimento che c'è più il rischio di droplets, di questo scambio di goccioline. I movimenti saranno limitati al massimo, come anche quelli dei banchi, le sedie, perché dobbiamo rispettare il famoso metro, no? Da bocca a bocca tra alunno. E quindi sicuramente avranno bisogno di sgranchirsi le gambe, oltre che di arieggiare i locali e di poter respirare anche senza mascherina. Voglio dire, quindi durante le ricreazioni gli alunni saranno condotti all'aperto. Per quanto riguarda il distanziamento, mi pare di aver capito che i problemi non ce ne stanno. I banchi? Adesso non ce ne stanno, però fino a due giorni fa sì. Diciamo che con le evoluzioni ultime, con le dinamiche ultime, delle ultime ore, il problema... Ma possiamo sempre migliorare, perché la situazione delle classi più è comoda e meglio è. Quindi non dispero col tempo di poter aumentare lo spazio vivibile dei miei alunni. Diciamo che c'è un'incomprensione di fondo alla base di diversi equivoci che si possano generare. Il fatto è che le scuole non sono di proprietà del dirigente scolastico. Le scuole sono a servizio della cittadinanza. Cioè quello che noi facciamo è per il bene della cittadinanza. E quindi impuntarsi su posizioni un po' rigide non fa bene ai cittadini di Acri, che la mia scuola tra l'altro sta formando. E poi tutto il resto è secondario nei confronti del mantenimento della sicurezza e delle misure di contenimento in questo momento. Perché già un grosso risultato è riuscire ad aprire, adesso a settembre, in presenza. E per cui mettersi a ostacolare l'attuazione di misure di sicurezza è assurdo. Riuscirete fin dall'inizio a garantire un banco a tutti gli studenti? Sì. Questo senza richiederne altri al Ministero? No, infatti non ne ho richiesto, ma guardate io non ho richiesto niente, io ho richiesto soltanto degli spazi che già ci sono. Per il resto veramente non ho chiesto di spendio di denaro, non ho chiesto nulla. Noi abbiamo tutto. Ci serviva soltanto uno spazio di movimento più ampio proprio per garantire queste misure di contenimento. Non ha fatto richiesta neanche di mascherine gel? E quelli arriveranno, stanno già arrivando però per poter dire che basteranno ogni giorno per tutti, vorrei averne anche io la certezza, sebbene il commissario abbia garantito che arriveranno ogni giorno, io ci credo, sì, però ancora non sono sufficienti per due o tre giorni quelle che abbiamo. Le sta mandando la protezione civile insieme al gel che è un po' di meno, però cercheremo insomma di distribuire il tutto in modo da sopperire a tutte le necessità. Ecco, quindi se ho ben capito non avete la necessità di ampliare l'organico, non ha fatto richiesta di ulteriore rinforzo? Pochissime ore, pochissime ore, veramente per poter garantire anche la nuova sezione sportiva che quest'anno vedrà il via, io sono molto contenta di questo, per poter garantire anche loro maggiori spazi perché la classe è effettivamente molto numerosa, invece la vorrei sdoppiare, però pare che il ministero sia abbastanza propende per questa giunta di organico, quindi si dovrebbe sdoppiare. Oltre alla questione Covid è un anno importante per il liceo Giulia anche per l'apertura di nuovi indirizzi, di nuove opportunità di didattica, di formazione per gli studenti, ma c'è anche in cantiere la realizzazione di un campo sportivo. Sì, ecco, molte novità caratterizzeranno quest'anno scolastico, io ne sono felicissima perché riuscire a costruire per la comunità io penso che sia la cosa più bella, cioè vedo proprio un ruolo sociale che si manifesta nello sviluppo della cittadinanza. Sì, infatti io ringrazio la provincia di Cosenza per aver consentito a costruire un campetto sportivo all'interno del cortile che è grandilo, chiamiamo cortile ma è una corte. Parliamo del liceo scientifico. Liceo scientifico, sì, un campetto 25 per 14 se non erro, in erbetta sintetica dove finalmente potremo fare le attività anche di questo nuovo indirizzo. Ma non è solo l'indirizzo sportivo che inizia quest'anno perché grazie alla volontà, alla capacità e alla perseveranza dei docenti del liceo classico, che io le voglio nominare tutte, questo è il gruppo biomedico, che sono Coschignano, Guido, Scaglione, Montalto, De Tommaso, Magliocchi, Frazzingaro, Dio Viteritti, spero di averle dette tutte, inizierà il percorso di curvatura biomedico. Tutto, diciamo, verterà sulle nostre forze dell'ampliamento dell'offerta formativa, ma quello che c'è di bello è che le professoresse si sono messe talmente in gioco da aver realizzato i materiali di studio, di curvatura biomedico per ogni disciplina in formato elettronico. Quindi questa classe avrà un monitor e i ragazzi saranno autorizzati a portare i loro device a scuola in modo da poter lavorare sulle dispense create dai docenti, dispense bellissime, con filmati, esercizi proprio prodotti da loro. Devo dire che mi ha entusiasmato questa cosa in formato e-pub, tutto in formato elettronico. E' una bella sfida. Io in queste occasioni sono maggiormente contenta di essere arrivata al liceo Giulia, perché ho delle risorse docenti veramente inimmaginabili, entusiaste, professionali, effervescenti, fantasiose e saranno anni pieni di soddisfazioni per me e per loro e per la cittadinanza a Crese. Alla vigilia delle pre-iscrizioni dello scorso gennaio aleggiava sulla scuola il fantasma della perdita dell'autonomia. Poi c'è stato un boom di iscrizioni, se l'aspettava? No, non me l'aspettavo e siamo rimasti sorpresi di aver ottenuto un così tale gradimento da parte della... vuol dire che la scuola funziona e credono in noi. Insomma, hanno visto un'apertura e anche una voglia di sviluppo e di miglioramento che evidentemente li ha convinti. Insomma, ma poi devo dire la verità, i genitori del liceo, sia classico che scientifico, sono adorabili. Cioè, magari fanno le loro osservazioni però in maniera sempre ineccepibile. Insomma, si riesce a parlare e a dialogare. Non ci sono stati mai problemi, qualsiasi richiesta. Magari è un po' difficile contattarmi in questo periodo, ma più che altro per il Covid è perché sono assillata da tutte queste misure che stiamo attuando. Però, voglio dire, i genitori avranno sempre la porta aperta e soprattutto la mia attenzione. Stavo considerando che su sei dirigenti scolastici sul territorio comunale ben cinque sono donne. Che significa? Non lo so. È una cosa brutta? No. Me lo dica lei? Eh beh, c'è questa invasione, lo sapete, delle donne nei posti, diciamo, di lavoro. Poi la scuola è a pannaggio femminile, lo sappiamo. Quindi era inevitabile che prima o poi anche le dirigenze, no? Diciamo che storicamente non c'era mai stato comunque questo rapporto di 5 a 1, eh? Ah, va bene. Per me è indifferente, voglio dire. Io, purché abbia degli interlocutori capaci e validi, a me vanno bene sia gli uni che gli altri. Per esempio c'era il preside Lupinacci, che era fantastico, no? Come la mia collega Simona Sanzosti. Ho conosciuto la Tortorella, non ho ancora conosciuto la dirigente Bruno, però mi hanno parlato molto bene di lei, delle sue doti umane, della sensibilità, quindi penso che si creerà un bel rapporto, ecco, tra di noi. Saranno tutte con noi nei prossimi giorni. A proposito, domani con noi sarà la dirigente scolastica dell'Ipsia Iti, professoressa Franca Tortorella. Grazie alla professoressa Brunetti, noi le formuliamo i migliori auguri di questo inizio di anno scolastico e per l'intera stagione scolastica. Grazie, grazie, arrivederci.